ciao a tutti qui per abba e compagni questo nuovo world true di armi world true di armi il numero 7 io sono sempre pari che le classi a me c'è king of kielson altra volta l'ho sbagliato solo c'è la tredda, prima di iniziare il video per presentare le nuove maschere che indosseremo in questa missione abbiamo deciso che da questo in poi cambieremo ogni maschera ogni missione questa l'ho fatta io in modello offline vedete bella bella fatto scream e lui c'è la maschera di carver quella di the space 3 ok iniziano sul trasmissione nemmo giudicati come se ci fosse domani nella testa che lo sblocchi la mia da pagliaccio nemmeno la serata baschera uso di trecchi e pica sarà con le pagliacce se non fare il fatto che usa giocatore inn la strada fa ii ii sceltri iii 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 se non sbaglio se qua è quella della benzina ben giocata la trota offline sperano che al contest saranno numerosi si voi, penso che sto chiusito qua arriverà che il contest sarà già finito si salta, mi ha fatto un cazzo andiamo giù come se ci fosse un domani, a te già ammazzi la gente, non cazzo nessuno è perché ho messo difficoltà, difficile la trota con mio fratello sai? è un coglione io ovviamente armi d'oro, cioè grazie, te hai già finito la storia, io no, e si è messo difficile si è messo difficile, cazzo è giusto così oh, stai fermo non ho messo la difficoltà massima, ma ho messo la difficile guardate che le mie armi tamarre no, ma non si è fatto bella puttana merda cosa è successo ho anche letto granata ecco la magnum di Ricky Gramsci ultra fega dai tamarro man this is oh, l'hai visto? si, l'hai visto cosa hai visto? la macchina che va contro la roba no, non quella contro la roba a parca puttana ma tutte le granate io me le vado a prendere che hai vestito quello? ma dai, io tutte le granate io ci voglio di quello che mentre... rilevamo sono mortali non so la vaffanculo la vaffanculo guardate le mie armi d'oro cosa sono belle ti hai ben capito che ti piace o basta non è che devi stare qui tutto il giorno allora tanto che in questo episodio abbiamo, stavamo discutendo del fatto che ma che cazzo è che mi sta sparando là dietro? guardate guardate mi ha ucciso mi ha ucciso mi ha fatto volare via sta discutendo? sta un po' discutendo che siamo quasi a metà del gioco e siccome che non so quando voi vedrete questo video ma oggi è presto parca puttana cioè appunto avremmo già iniziato la serie parca puttana ma parca... adesso non c'è cazzo nessuno infatti no, io ce n'ho pieni appunto dovrebbe essere già uscito ormai The Dylann Riptide che voi troverete nel nostro Waltrug ma oltre a questo parca puttana mi one shot a livello difficile quasi e va bene ma allora è un vizio ma sei coglione mi stai sparando tu e ho sbagliato ma quanto sei minchione e' zitto non comincio a fare che mi fai incazzare ma ma ammazzo allora ma ammazzo tu si va bene puoi salta e lascio anche morire sono parca il senato Vidal sono la faccio con te Arturo bella bella il mio tutto serio con la masca bella e mi non parla mai e' lì a fare il ah comunque appunto dicevamo siamo quasi a metà quasi a metà gioco faremo gli episodi un po' più lunghi dai 15 ai 20 minuti e adesso fissi e appunto per finire presto questo Waltrugs per iniziare non si sa quando non si sa quando inizieremo cioè ovviamente inizieremo quando uscirà ma il Vultrug o una serie su eh dell'astrofaz eh dell'astrofaz punto non c'ho un nome secondario l'ultimo di noi e poi faremo anche ovviamente l'unboxing un unboxing un unboxing un unboxing eh vabbè con la pistola da milanista velo rosso nera guarda mi faccia guarda mi faccia bella vado 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 bella vado vado bella vado 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 come dicevamo il fatto che siamo a quasi metà metà gioco faremo un po' di Vultrug più lunghi per fare diverse serie come appunto faremo la serie c'è tutto la il gioco di The Last of Faze e The Dylann Riptide e ovviamente parca ma tutti i conti ce l'hanno però sinceramente se tutte le carte sto pigliando io oh oh ok ah qua stai attento che ce la metriiona ah sì cos'è a fondo la strada sì vado io avanti che c'ho ad armi dai vedi qua che è una spigna dai vedi da te e di là ok io faccio parte del club oh oh dai oh ma scemo il mio spingi prima oh si è bugato il mio prova a staccarti ok vai mettiti ok non mi fa mettere oh cazzo come sta uccidendo cazzo cazzo ma che cazzo è si è bugato dai vai mettiti mettiti ok prova adesso ok ok sarà bugato si sarà bugato brevemente questa è bello che hai la divisa fighissima ti dice già la lingua di fuori per quanto fasi che cazzo è che life mi ha eserciuto lecce spara e attira l'attenzione spara a cieca, non scendo porca puttana merda quanti mi one shot, quasi ah eh, se guardate, vabbè a parte le mie armi paccate d'oro adesso c'ho ma eh... sto usando l'M1 Garand e la Magnum come arma secondaria sempre, scusa, come arma usiliaria ho mai detto il cazzo, basta ti raggiungo i barchidi che cazzo fai? no no no, spari, spari, spari sto guardando a me e sto sparando, non so, sono le nomi tagli mira, mira, lo tanto è... ecco, buon, morto vai, vieni da me dicevo appunto sto usando questa e mi pare che come come secondaria, sto usando tipo una specie di scar non mi ricordo esattamente questo ma state che ha sparato qualcuno in questo gioco qua si chiamano... cioè le armi qua sono in tutto in modo diverso cazzo, che cazzo mi sta sparando in questo gioco qua c'è il Vector, ti ricordo... come si chiama il Vector? no, io uso Overkill comunque si, c'è la Vector, MP7, così così, sono tutte paccate, no? però vi posso dire assicurare che il Vector da qua in poi si inizierà già a fare molto più divertente e figo over the power si, è già è già molto carino giocare in compagnia, no? è già molto più perchè guarda di controllo schermo vieni qua vedete mi sono perlucite salvato più in coro nel best player EU un copiale thread abbiamo finito qua non ce n'è ancora porca troia non ce n'è ancora non ce n'è ancora o ce n'è qualcuno ancora in gioco bella shot si eccolo qua eeeh bella bella tut 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 io sono Tony Montana con le armi tutte impaccate d'oro andiamo slow motion ragazzi slow motion io ti faccio si con la lingua bella aaaah adesso muoce questa parte aaaah perchè non la so fare si sta cosa qua sta parte qua scusateci ma l'avevamo già fatta offline l'altro giorno ma non abbiamo potuto registrare per un inconveniente tecnico alessandro ciò agli amorroidi cos'è che devo fare? raggiungi i contatti io nooo cioè cosa devo fare? ah si scusa dai vai devo fare la scaletta io proprio non ti sicuro niente eh no l'ho mica fatta apposto va bene va bene che stava avendo avuto il tasto giusto ah fucco coca punto diceva abbiamo avuto inconveniente tecnico in poche parole il nostro piede si era addormentato e non voleva svegliarlo ma fucco no no noi abbiamo fatto quei puttana quanto ci sono mostro male abbiamo fatto questa poi l'altra c'è il pezzottino il pezzettino dopo l'abbiamo fatta no cioè eravamo avevamo finito di liberare i tizi e basta eh? si che l'avamo fatta e si siamo arrivati lì poi la missione dopo abbiamo iniziato ma non abbiamo no aspetta che preferiamo romarsi i contatti siccome niente abbiamo finito questa commissione qua sappiamo come va a finire adesso ma parca puttana quell'altra l'abbiamo iniziata ma proprio in due secondi lo sappiamo cioè io l'ho finita perchè ho giocato online pertanto per finirla guarda ma veramente tutti gli le beccos ste granate lo dicevo che c'è un mire eacchio due volte che lo prendo due volte con liscio quanto pare oggi c'è un po' c'è un po' c'è un po' questo non potremmo lasciarlo quello anche se per morire coperti papapam comunque siamo visti che siamo metà e diciamo tra poco finiamo qui e stoppiamo perché appuntava che cazzo ti ricordo ma guarda di tutta me stanno facendo le granate oh ho fatto per kill no sembra che hai fatto per kill oh mi stavo sparando mi stavo sparando aspetta cecchino di merda oh che cazzo figli puttana dietro è arrivato che cazzo che cazzo è basta metterlo tutto il cazzo ah non lo ammazzo con lo stronzo l'ho ucciso ah non lo so ah si è quello qua è arrivato qua davanti mi arrivate in faccia dicevamo eh visto che nel prossimo episodio siamo a metà esatta di di gioco uff figa vi daremo le nostre opinioni le nostre diciamo una breve no parca granata vi daremo la nostra come si può dire opinione recensione di questo gioco cioè a freddo poi farò io la video recensione completa e dettagliata però vi daremo le nostre opinioni io ho finito il gioco più lui che sta giocando insieme a me di com'è e di cosa sarà questo gioco dai che ti raggiungo ti faccio troll anche io qua ormai hai fatto giù la strage io lisciato lisciato contorno cappello cioè io ho fatto tutto meno che prenderlo io per capitare e mi secondo come sta sparando ne vedo c'è te hai fatto l'overkill per uno si ah no due dai uomo overkill non sto per morire sta c'è tanto che intanto che siamo tanto che non c'ho niente da dire te che ti ricordi quando abbiamo giocato il primo no come no non me lo ricordo cioè so che abbiamo giocato ma è tutta la prossima e ti ricordi non dico la storia ti ricordi però il gameplay no? ma dai ti ricordi ti ricordi comunque vabbè è vero che devo dirti cosa ne pensi di cosa si è cambiato tra l'uno e l'altro non mi ricordo manco come cazzo mi chiamo non c'è niente eh vabbè vabbè comunque possiamo parlare di una cosa allora per il prossimo episodio di speed games si eh ciccio questo episodio qua lo vedranno tipo tra 800 anni ma io vabbè la ricordo con le speed games il furbo se non troviamo fighe di programma ah ehhh eh sì vabbè vorremmo chiedervi se siete arrivati a questo punto del video di commentare qua sotto un video c'è un video un gioco speed o flash eh che possiamo trovare su internet e un programma per registrare perchè non vorremmo basta che non sia attupecaccio perchè vorremmo registrare un gioco chiamato gotham city però non troviamo il programmino per farlo perchè non mi registra sto figlio puttana guardando non completata no perchè stavo già andando già lì e mai ci saranno ancora qualche gangster in giro sicuro come se ci fosse un domani io fighetta dove sei ascolta tabarro band che cazzo è poi oh io non vedo nessuno c'è qualcun altro dice che abbiamo finito e soprattutto di qualcuno ah se non prendi lo spolato oh oh dai non direi che si è baggato fatta c'è di uno anche io non sarò con la macchina baggato? boh boh non c'è in giro nessuno perchè? liberare la carta c'è un cazzo nessuno ma che cazzo? cioè gli sento delle delle una ma non sento dove è dai ragazzi si è bugato il gioco adesso è più sopra proviamo a andare più là proviamo tanto non costa niente coglione insomma trovo ma dai vabbè intanto che cerchiamo di il tipo mi sa che non trovo che sarò però forse tu hai visto ah l'hava late bugato oooooh ok certo sarò laster importante scurato sceltario ma se ero bugato già perché non trovavamo più un minchione che s'era bugato il nostro un crocetto figa okey ma io bello bello ovunque intanto che parli digli come sarà il prossimo retro game di cosa sarà e che cosa che cosa passate attraverso del fitto l'episodio che dovete vedere di v2 sarà cannescane edit cannescani io c'ho personaggio panchettone ho fatto vai panchettone lascia la me lascia la mezzo giuro che sono la massica da pazzo il libro puntana eh vabbè si vado a te perché le granate con una cosa da un bozzuco porca puttana morto vasto un altro un po' alla nigra vediamo oggi la ma cosa sfigata ci si bagga vabbè c'erano le tre per forti io il re il re del futuro non capa mai strada hai capito il re del futuro non si girava indietro dai amico oh aspetta 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 cazzo levi si sono comparsi si adesso lo viste quando mi sono venuti infatti con la pistola da milanista ma sta pistola da milanista ti avete perso anzi ma è stato dato che non manco ci andate in champions ma che cazzo guarda 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 ancora sta cazzo cazzo ha preso a me sto volta ha preso a me vabbè niente poi la serie iiii vabbè vabbè sarà già uscito l'episodio sicuro iiii cerca si sarà già uscito vabbè quella dopo però cosa dobbiamo fare non mi vale più ah ero io col medico è vero in un futuro magari l'avete già visto troverete l'episodio iii cercasi ovvero imprese impossibili cercasi l'impresa di buggy the clown buggy il paia che non è un vero campione un vero campione su battlefield che dovrà usare solo il medico ma solo e unicamente solo ed unicamente defibrillatore e pistole comunque per questo episodio è tutto il settimo si finì si completa qua quindi noi vi ringraziamo per averci visto e vi invitiamo a lasciare un mi piace per continuare questa serie mi piace iscrivetevi se non siete iscritti e commentate esatto più che altro mi piace per vedere se la serie vi piace ciao a tutti ciao belli